Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, sono esattamente, che ore sono amore? Aspettiamo che guarda, perché voglio dirvi l'ora esatta. Sono le 10.20, siamo usciti da poco e siamo venuti qua nel solito negozietto, aspettate. Ciao. Come è abbronzata mia moglie. Anche tua amore? E siamo venuti qua in questo negozietto. Aspetta. Negozietto souvenir caramelle. Vedete che belle queste saponette? Sono anche belle da tenere in un bagno. Guardate, innanzitutto guardiamo le fate. Innanzitutto le fate che Memone si è innamorata. No, ma queste non sono belle. Però sono belle. Questa ce l'ho, una pesa ieri, più o meno uguale. Anche questa è con l'unicorno, guardate. Ce l'ho grande con l'unicorno. Amore, fai dire che belle è questa. Una di queste saponette le voglio prendere, perché sono molto sfiziose. Sfiziose a mangiare. Allora, c'è scritto i momenti di dolcezza, Torre Pedrera. È molto bello. Poi qua siamo per la casa. Sì, questi sono diffusori per la casa. Poi sotto abbiamo... Abbiamo i troll. Trolle cosa sarebbero? Gnomi. Ah, io infatti gli gnomi li chiamo. Ah, in qualche modo si. Poi qua andiamo avanti con quella bella fata con le ali. I delfini, i portaceneri, i gattini. Guarda, c'è l'ho kitty. Guarda. Ragazzi, purtroppo anche qua abbiamo l'ho kitty. Purtroppo. I teschi. Guarda che, vabbè, queste tazze qua ormai si sanno. Queste pure. Prendiamo dell'interno, torniamo della Juve, la Solmina. Bella questa qua da 1690. Da che bello questo orologio che è un panorama. Fatticare questo orologio qua che è un panorama praticamente. Belle le navi, belli i fari, bella la torretta del bagnino. Ah, la torretta? Che bella. E ci vuole una foto là. Con salvagginti sotto. Bella anche queste qua. Insomma, bello. Bello, bello, bello. Il negocio l'abbiamo scoperto adesso, ma ci siamo passati dall'inizio della vacanza fino adesso. Allora, abbiamo scoperto che praticamente c'è tutto da 1 euro a 10 euro per certe attività. Quindi ora andiamo a guardare. Sì, ci ho scritto così. Andiamo a guardare. Che stupidelli. Ragazzi, fuori tutto. Per cambio attività tutto da 1 a 10 euro. E qua vabbè, classici vestiti. Guarda, questo qua lo ho dato a mia moglie. Questo qua è perfetto per mia moglie. Questo qua l'ho fatto vedere perché c'è questa mia moglie. Questo qua è la passeggiatrice, amore. E non estrebbe mai bene. No, dentro con la tua misura i dito. Ma che schifo, no. Questo qua è più bello, più intrigante. Questa qua è una bella tuttina. Uh, guarda, è praticamente scollata qua davanti. Sto, è un copricostume. È molto bello, guarda. Si allarga anche tanto. È molto bello, si infila così. Anche questo è bello da vedere a te. Mi sembra una vestaglia. Vabbè. Guardate il prezzo, 8 euro, ragazzi. 8. Perché il titolare ha detto non guardare il prezzo più alto, ma guardare il più basso. Ragazzi, siamo usciti per fare un semplicissimo giro. Abbiamo guardato il negozio da 1 euro a 10 euro. Guardate una cosa. Solamente un sacchetto, ma è strapieno, è stracolmo. Ho preso 4 cose. Però un affare, perché il tutto, quanto amore. 30 euro, ma cose belle proprio, eh. E più gli ha fatto uno sconto su un vestitino. Sì, 3 euro. 3 euro. Vabbè, però. Però intanto ce l'ha fatto, perché purtroppo quest'anno ha detto che l'ha chiudere l'attività. E qui ho corti fanni, bellissima, che voglio venire a prenderla. Troppo bella. Qua mi sa che devo chiamare un pullman per caricare. No, ma così non c'abbiamo sacchetti, sacchetti, abbiamo la valigia e siamo a posto. Curva, eh. Tiffany è bella. Non è solito rosa, no, amore? Allora ragazzi, siamo rientrati da poco, ma prima di salire ci siamo bevuti praticamente una scheps, mia moglie, un tè a limone e io. Adesso siamo saliti in camera e siamo sciacquando i vestiti. Non riesco a capire questo puntino qua. Sarà la luce, comunque sono dettagli. Domani hanno detto che ci sarà un bel tempo. Io vedendo qua il cielo però ho un po' paura, però domani bisogna andare assolutamente in spiaggia, devo prendere il sole davanti e dietro perché voglio tornare a Milano, bello abbronzè, bello un po' solettato. Siamo andati a fare un bel giro e ho fatto un bel regalo a mia moglie e poi sarà lei se vorrà a farvelo vedere perché per noi è di vitale importanza. Io l'ho visto, mi è caduto proprio l'occhio ragazzi, se no secondo me è qualcosa che non saprei come descrivere. Mi è caduto l'occhio e l'ho dovuto assolutamente comprare. E è rimasta molto felice, non se l'aspettava. Ma non me l'aspettavo neanche io ragazzi, proprio non so come posso descrivere questa cosa qua, se forse è un qualcosa che può riguardare il destino, non lo so ragazzi, sono ragazzi che sono entrato in questo negozio, stavo guardando, mi è caduto l'occhio su un oggetto e l'ho dovuto per forza comprare ragazzi. Poi vi ripeto, se mia moglie è riterrà opportuno ve lo farà vedere perché è una cosa che ci riguarda entrambi, se no pazienza. Ma il fatto che mi è caduto l'occhio proprio senza farla apposta, cioè era lì, era da solo, e mi è caduto l'occhio ragazzi e non mi so dare spiegazioni, se è una cosa positiva o che cosa, però non voglio andare avanti. Adesso sono sul terrazzo, mi sto fumando una sigaretta, abbiamo sciocquato i vestiti di costumi e niente, adesso vediamo cosa fare, vedere un po' di, io, vediamo se guardare, cucini da incubo ragazzi. Ragazzi sono riuscito a pescare un'aracosta, guardate com'è rossa. Ah, sarei un'aracosta? Eh, perché sei rossa, ma poi diventa nera ragazzi, ma guardate com'è rossa incredibile, cioè mettiamoci a paragone, scusa, mettiamoci, no, ma guardate, io sono una mozzarella e guardate lei, cioè ma proprio sei, cioè se mettiamo l'asciugamano che è rosso, cioè sei vicina, eh, ti amo. Anch'io tanto, mi sposti l'entrino per favore. Il video su della sua bronzatura per una donna fantastica. Grazie amore, tu sei un uomo veramente super 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 fantastico, migliore al mondo e sei da sposare, io tu sposato. Dammi un attimo la mano. Amore, mi vuoi sposare? Sì, mille altre volte amore mio. Andiamo. Eccoci qua amici, appena tornati da poco dalla spiaggia, è finita la doccia, sono sul balcone, mi sto fumando una sigaretta con questa bellissima vista mare. Stamattina, prima di andare in spiaggia, abbiamo fatto, abbiamo girato due negozi, ma giusto per vedere due cosine prima di partire e stasera non si esce perché mia moglie, stando sotto il sole, lei non lo vuole capire e gli è venuto praticamente mal di testa, quindi stasera ci riposiamo e usciremo magari domani, tanto di tempo ne abbiamo ancora un po'. E questo qua è il tutto ragazzi, qua il sole batte che è una meraviglia anche su questo terrazzino, infatti mi approfitto per prendere ancora un po' di sole finché c'è. Bene ragazzi, io comunque spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi è ben trattenuto, noi naturalmente ci rivediamo con un prossimo vlog, io vi auguro una buona serata, un buon sabato sera e naturalmente iscrivetevi al canale di Coppia Davidechera Channel, al canale di Chiara D'Alessandro, al canale di Chiara D'Alessandro e al canale di Chiara D'Alessandro SMR. Io vi auguro ancora un buon sabato sera, bacione, salito via e ciao!